E mi girava, e mi rivoltava, ma che era? Era una furia, ma che era? Era uno stallone. Alla fine, dopo due ore di sesso sfrenato, lo sai che cosa ha avuto il coraggio di chiedermi? Lo sai che cosa ha avuto il coraggio di chiedermi? Ma dilla a tutti, non solo a lei. No, io lo devo dire alla spagnola. Ho avuto il coraggio di chiedermi ancora, ancora, e allora, ma sappiamoci!